Ciao amici di maridacaterini.it, siamo con Enni Bruschetta, uno degli interpreti di Questo è il mio paese, la serie che debutta lunedì 9 novembre sul Rai 1. Ci racconta il suo personaggio. Il personaggio è un ex sindaco, aspirante nuovo sindaco, che si mette in grande conflitto con la protagonista, che è Violante Placido e soprattutto rappresenta un'idea di politico negativamente suddista, cialtrone, bigotto, che però ha sempre la possibilità di scorgere nel suo avversario una bellezza, un'intelligenza che lui comunque apprezza, anche se non lo dà a vedere. Quali sono le aspettative riguardo questa serie? Non bisogna mai farsi aspettative quando si fa un prodotto televisivo, cinematografico, teatrale, bisogna semplicemente farlo. Il nostro compito è già finito. È finito adesso anche quello del regista, del montatore, tutti quanti, ora tocca al pubblico e da lì sapremo quali sono le aspettative. Però da come ne parlavate in conferenza sembrava che confidaste molto in questo prodotto, tutti, intendo tutta la squadra. Certo, bisogna sempre confidare in tutto quello che si fa, non solo in questo prodotto, in tutto. È logico che sia così, non si può, veramente è una cosa importante, io lo consiglio spesso anche ai giovani che fanno questo lavoro, mai crearsi aspettative, proprio il termine che io sottolineo, non bisogna mai avere aspettative. Senta, lei era anche nel cast della Prof con la Pivetti, ci sarà una nuova stagione? No, purtroppo no, quella è finita, sono state tre serie consecutive e poi abbiamo chiuso. Ok, e ci anticipa qualche progetto futuro? Allora, di televisione deve uscire un film di Lucio Pellegrini su Mediaset con Fabrizio Bentivoglio e Claudio Bandolfi, è un poliziesco. Poi ho fatto Lampedusa con Marco Pontecorvo e Claudia Mendola, il protagonista, è Carolina Crescentini. Questa è per la Rai. E poi il sistema con Claudio Gioè e con la regia di Carmineria, sempre Rai, anche questo. Poi adesso per una finita un film per il cinema con Ricolando, che è il regista dei soliti idioti, è una commedia molto carina. Quindi non solo impegno civile? No, no, io sempre mi muovo, sempre anche sul comico, non disdegno, mi diverte molto. Quale preferisce? Beh, il comico, sul set il comico è naturalmente più divertente, il drammatico è più impegnativo e quindi anche quando c'è un pochino di esperienza c'è anche più gusto a farlo, perché studiare per un personaggio, costruirlo è più bello che farlo naturalmente, semplicemente, cioè il dramma, la parola dramma poi è significazione, quindi è una costruzione del personaggio che è molto importante. A proposito di costruzione del personaggio, le faccio l'ultima domanda, come l'ha costruito il personaggio di Questo è il mio paese? Troppo facile, è calabrese come mia mamma, cialtrone come molti politici siciliani che ho conosciuto, soprattutto quelli della Prima Repubblica, quel personaggio lì ha proprio l'idea, del... io mi ispiro esattamente a una persona, ma non posso dire il nome, perché nonostante non sia una persona onestissima, mi è molto simpatico e quindi non lo voglio dire. Ah, quindi è proprio un personaggio preciso? Sì, sì, è un... devo dire che è un ex sindaco della mia città. Va bene, la ringrazio. Sì, 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 sì.